Solo cose vere e concrete. Più piste ciclabili e bus elettrici. Perché è il suo lavoro. Scegli Mario Chiuto come sindaco. Scegli il suo programma. Solo cose vere e concrete. Scuole e asili nido più belli e curati. Perché è il suo lavoro. Scegli Mario Chiuto come sindaco. Scegli il suo programma. Solo cose vere e concrete. Più spazi verdi e percorsi pedonali. Perché è il suo lavoro. Scegli Mario Chiuto come sindaco. Scegli il suo programma. Solo cose vere e concrete. Più cura e manutenzione di strade e piazze. Perché è il suo lavoro. Scegli Mario Chiuto come sindaco. Scegli il suo programma. Solo cose vere e concrete. Tariffe e tasse comunali meno care per famiglie con figli. Scegli Mario Chiuto come sindaco. Scegli il suo programma.